Panoramo Sofficina Artistica ritorna nuovamente a teatro, andremo in scena il 23 di dicembre 2023 alle ore 18 al Teatro Al Massimo di Palermo con l'amantide religiosa di Andrea Lombardo e Cesare Biondolillo con in scena Cesare Biondolillo, Adriana Sino e Riccardo Isgro. Eccoci qua, tutto pronto per sabato 23 dicembre Teatro Al Massimo, la commedia si chiama L'amantide religiosa, è un testo di Andrea Lombardo e Cesare Biondolillo i quali hanno anche curato la regia. Sarò insieme a Riccardo Isgro e Adriana Sino, è una commedia brillante, comica, anche pulp a momenti e poi c'è un quarto elemento di sorpresa che non voglio svelarvi. Allora domani ti faccio assaggiare un bel pane di Monreale, quello buono che si fa ancora col forno a legna. Siamo sicuri che sei siciliano? Io sono già pronto, sono già vestito, pronto per questo bellissimo personaggio che si chiama Gino in questa bellissima commedia, o meglio, quando il palco incontra la commedia. L'amantide religiosa, ore 18, Teatro Al Massimo con Cesare Biondolillo, Riccardo Isgro, che dovreste conoscere, ce sono io, e Adriana Sino. Quattro risate, ore 18, per un'ora vi divertirete tanto. Io mi diverto tantissimo, a tal punto che questo personaggio è cresciuto molto in me, che oramai vivo come Gino, quindi vi aspetto. Il mio personaggio si chiama Agnese, nome in codice Lucia. È un personaggio misterioso e a tratti sopra le righe, che nasconde un mistero, che voi stessi scoprirete venendo allo spettacolo. Vi aspettiamo! Prima di Natale facciamoci quattro risate insieme. Vi aspetto, sabato 23 dicembre, ore 18, Teatro Al Massimo. In questo spettacolo tanti stravolgimenti, tanti colpi di scena e tante risate, per uno spettacolo originale, targato panormo, sofficina artistica, che sottolinea la volontà anche di mettere in scena i propri spettacoli. Vi aspettiamo!